Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 nell'ambito di un'inchiesta della procura della Repubblica di L'Aquila il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. Il presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso è indagato per corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta della procura della Repubblica di L'Aquila il governatore sarebbe coinvolto insieme a un'altra quindicina di persone tra funzionari e imprenditori le ipotesi di reato riguardano il cantiere dei lavori di Palazzo Centi all'Aquila sede della giunta regionale un intervento riguardante la città di penne e interventi di manutenzione di case popolari a Pescara. Dopo quella negli uffici regionali di Palazzo Silone all'Aquila sede della giunta regionale sono state effettuate perquisizioni anche domiciliari oltre che dai carabinieri l'indagine è portata avanti anche dalla polizia di Stato. Mi dichiaro totalmente estraneo alle vicende e auspico una loro rapidissima definizione ha scritto in una nota d'Alfonso in merito al sequestro da parte dei carabinieri di documenti sulla gara da 13 milioni di euro per l'affidamento della ricostruzione di Palazzo Centi sede della presidenza nel centro storico del capoluogo resa inagibile dal terremoto del 6 aprile 2009. Nella mattinata di oggi sono stati comunicati atti di proroga di indagini penali che vanno avanti dal novembre 2015 con rinnovi semestrali e su facebook il presidente ha scritto ho fiducia nell'operato della magistratura così come ne avevo in passato quando è stata sempre accertata la liceità delle mie condotte amministrative. L'edificio di Palazzo Centi al centro del blizio dei Carabinieri sede storica di organi regionali fu acquisito al patrimonio della regione Abruzzo nel 2002 e poi sottoposto a un restauro durato da luglio 2003 a settembre 2006. Da allora è stato sede della presidenza della giunta regionale nel sisma dell'aprile 2009 ha riportato danni notevoli i soldi per il recupero sono arrivati per 3 milioni dalla rimodulazione del primo programma stralcio di ricostruzione degli edifici pubblici e per 10 milioni dalla delibera Cipe numero 44 del 23 marzo 2012. L'appalto è stato caratterizzato da lungaggini burocratiche dovute anche al passaggio di consegne tra il provveditorato interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna e la regione stessa divenuta stazione appaltante con la cessazione dello stato di emergenza il 31 agosto 2012. Il bando è stato pubblicato il 7 maggio 2015 sulla gazzetta ufficiale della comunità europea con scadenza il 16 luglio poi posticipata il 27 agosto. Hanno risposto 29 imprese molte delle quali colossi delle costruzioni con le offerte valutate da una commissione amministrativa preliminare poi da una commissione giudicatrice per l'offerta economica e quindi da un organo tecnico per l'offerta tecnica. L'appalto è basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A metà novembre la giudicazione provvisoria a Edil Costruzioni Generali SRL di Isernia che ha operato ribasso del 35,017% poi divenuta definitiva. Nei giorni scorsi l'amministrazione regionale aveva dato l'ok alla congruità degli atti di gara, ribasso incluso. E sarebbero due le richieste di proroga delle indagini ricevute dal presidente della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Lo precisa una nota della presidenza nella quale si evidenzia che il nome del presidente D'Alfonso non compare nel procedimento sul cantiere di Palazzo Centi. Le due richieste riguardano una la città di Penne iscritta nel registro delle notizie di reato in data 18-11-2015 e una per lavori solamente preventivati alle case popolari Ater di Pescara iscritta nel registro delle notizie di reato in data 8 luglio 2016. Si legge nella nota. Contestualmente prosegue. È stato recapitato un altro documento ordine di esibizione di atti e documenti con il quale è stato notificato alla regione Abruzzo che è in corso un procedimento penale sul cantiere di Palazzo Centi all'Aquila nei confronti di sette persone in ordine alle quali si è compiuta acquisizione documentale. Tra queste non comparirebbe il nome di Luciano D'Alfonso come scrivono dalla sua presidenza. Visita sorpresa del vicepresidente della Camera dei Deputati. Questa mattina Luigi Di Maio l'Aquila insieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che hanno consegnato una turbina spalaneve alla protezione civile abruzzese acquistata grazie ai tagli alle indennità dei rappresentanti regionali. Filippo Tronca. Una fresa spazzaneve dal costo di 220 mila euro acquistata e donata alla protezione civile dell'Aquila con parte dei fondi risparmiati dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle grazie al dimezzamento volontario delle loro indennità. A presenziare alla consegna è arrivato anche il vicepresidente della Camera e candidato premier in pectore dei pentastellati Luigi Di Maio. Qui hanno investito in microcredito i nostri consiglieri regionali nella prima fase e adesso in una turbina quindi nella sicurezza dei cittadini. Nella vita molto spesso può capitare di salvare vite con un mezzo del genere. Noi non chiediamo nessun grazie perché questi sono soldi delle vostre tasse che noi riteniamo eccessivi negli stipendi dei consiglieri regionali, negli stipendi dei parlamentari. Quindi questo è un atto dovuto al popolo italiano. Perché ricordatevi che il costo di questa turbina la Camera lo utilizza in un anno per pagare la polizza assicurativa ai parlamentari per le punture d'insetto o le insolazioni. Incalzato dalla stampa Di Maio non ha voluto dire nullo quasi sulle note vicende romane ovvero sulla terza polizza dell'ex capo della segreteria politica Raffaele Marra intestata alla sindaca Virginia Raggi sulla megalottizzazione dello stadio della Roma e dell'addio tra i veleni dell'assessore Paolo Berdini. Parliamo d'altro per un giorno implorato. Parliamo ad esempio della necessità di andare subito ad elezioni per cambiare questo paese e delle cose davvero serie, ad esempio dello scandalo rivelato da un'inchiesta giornalistica del settimanale L'Espresso, secondo cui il Tesoro italiano ha sottoscritto da una decina d'anni a questa parte titoli derivati costati 23,5 miliardi di euro ai contribuenti e andati a finire nelle tasche delle banche speculative di Mezzomondo. Il tema dei derivati si collega molto a quello che diciamo noi oggi, come si sono usati i soldi dei cittadini in tutti questi anni. Qualcuno è andato a giocare in borsa con le nostre tasse. Io ricordo che i cittadini italiani pagano le tasse più alte del mondo industrializzato, dovrebbero avere le strade lastricate d'oro e invece una parte dei loro soldi sono finiti in delle scommesse bancarie, andate male, sulle quali metteremo mano dopo le prossime elezioni politiche sicuramente. I nostri colleghi della Commissione Finanze avevano provato a metterci mano tante volte, qui c'è anche Giorgio Soria della Commissione Bilancio, abbiamo provato ad accedere a quegli atti tante volte. Un'inchiesta preziosa, quella sui derivati, che ci apre tutto un mondo di come si sono spesi i soldi in questi anni. Io ricordo che al Comune di Napoli, ai tempi della Iervolino, quando governava il PD, c'era l'Ufficio Finanza Creativa. E l'Abruzzo vuole ottenere di più dal governo Gentiloni, dopo i fondi stanziati per il terremoto, ora la richiesta è di fondi destinati ai danni causati dal maltempo. Intanto, nella giornata di ieri è arrivata la firma di un'ordinanza ad hoc per l'Abruzzo da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Francesca Romana Tessi. L'Abruzzo chiede di più. Chiede di più al governo che in prima battuta aveva stanziato fondi dedicati esclusivamente ai danni causati dal terremoto. Ma l'Abruzzo è stato ferito anche da un'ondata di maltempo eccezionale, che continua proprio in questi giorni a spaccare il territorio. Dopo la nevicata che ha isolato per molti giorni intere comunità, l'emergenza ora è quella delle frane, che hanno investito già la provincia di Pescara con quella di Penne, il centro di Chieti con le due voragini che hanno spaccato la città, il centro di Teramo e anche la sua provincia con il caso della collina di Ponzano, che ha richiesto lo sgombro di 24 abitazioni. Proprio ieri è arrivato l'atto che ha conferito al governatore D'Alfonso il compito di quantificare tutti i danni da risarcire nelle aree fuori cratere, grazie ad un'ordinanza ad hoc per l'Abruzzo, firmata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Nel frattempo a rivolgersi al governo è anche il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Mario Mazzocca, che ha provveduto ad inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, congiuntamente a Curcio, la richiesta di uno stanziamento di specifiche risorse economiche pari a un milione e mezzo di euro da destinare ai comuni interessati dai rifiuti spiaggiati a causa delle mareggiate, causate proprio dall'ondata eccezionale di maltempo. Si tratta di rilevanti quantitativi che mettono in crisi i comuni costieri, costretti a stanziare grosse somme di denaro per poter ripristinare le spiagge e preparare una stagione balneare già complicata, come nel caso di Pescara, inquinata dal fiume. Tanti fronti sui quali intervenire per rimettere in piedi una regione divenuta il centro di una serie di avversità, che oggi spaventa amministratori e cittadini, una lunga battaglia che prosegue per intervenire in tempi celeri e ripristinare territorio e soprattutto la sua economia. E dopo la tragedia del resort di Rigopiano, finita l'emergenza, ora si pensa all'economia del territorio, il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, dopo aver incontrato gli ex dipendenti dell'hotel, ha chiesto la cassa integrazione per 21 lavoratori facenti capo alla società che lo gestiva. Ascoltiamo. A quasi un mese dalla Slavina che ha travolto l'hotel Rigopiano di Farindola, causando la morte di 29 persone rimaste al suo interno, Farindola è un comune che prosegue la conta dei danni sul territorio, ma soprattutto che guarda il danno causato alle attività produttive come gli allevamenti e il turismo, l'importante volano del territorio. E così, nella giornata di ieri, il primo cittadino, Ilario Lacchetta, ha incontrato i lavoratori della società che gestiva il resort. Cuochi, camerieri, addetti di vario genere, stagionali, hanno perso tutto, chi i propri cari, chi i amici e anche il proprio posto di lavoro. E così il sindaco ha fatto un appello, rivolto agli imprenditori locali, perché possano contribuire, come possono, al loro reintegro in altre attività. Intanto Lacchetta ha annunciato un consiglio straordinario in programma per la prossima settimana, nel quale saranno invitati anche i parlamentari abruzzesi, al fine di ottenere un aiuto per il comune di Farindola, per ottenere il riconoscimento dei danni causati dal maltempo. Una situazione che ha messo il comune in grave difficoltà e dalla quale sarà difficile uscire, ha spiegato il sindaco, senza l'aiuto esterno. Proprio ieri è stato reso noto il dossier estilato dalla Protezione Civile e inviato a Bruxelles con la stima effettiva dei danni riportati dal centro Italia dopo le 53.000 scosse di terremoto registrate dal 24 agosto fino al 18 gennaio. È di 23,5 miliardi l'ammontare dei danni, l'1,4% del PIL del paese. 3,2 miliardi invece i costi sostenuti dall'Italia per far fronte all'emergenza. 500 milioni sono i danni apportati alle attività produttive e all'agricoltura. Protestano a Teramo i residenti delle otto palazzine Ater di Collaterrato costretti a sfollare dopo il sisma del 30 ottobre scorso. La polemica nasce dal fatto che gli immobili sono stati sgomberati per volere dell'Ater nonostante fossero stati classificati in categoria B, con lesioni lievi quindi e facilmente riparabili. Ad oggi nessun accomodo è stato effettuato dall'Ater e sono in tanti a vivere fuori casa tra mille difficoltà. Tania Munici Castelli. Sul piede di guerra i cittadini terramani delle otto palazzine Ater di Collaterrato, dichiarate inagibili dopo il sisma del 30 ottobre. I residenti ormai fuori casa da mesi hanno chiesto di incontrare la prossima settimana l'amministrazione comunale di Teramo e i rappresentanti dell'Ater per avere notizia sulle proprie abitazioni e per sapere quando potranno rientrare a vivere negli stabili. La rabbia degli sfollati nasce dal fatto che gli immobili in questione sono stati classificati B dalla protezione civile, il che significa lesioni di poco conto e facilmente riparabili. E allora perché mandare via tanta gente, tra cui anziani e malati? Perché, nonostante le promesse del sindaco Brucchi di intimare all'Ater, di riparare immediatamente i danni, nulla sia stato ancora fatto? Intanto sono in molte che a Collaterrato hanno deciso di dormire a turno in macchina per scongiurare atti di sciacallaggio. Qualcuno nel frattempo è anche deceduto, forse di crepacuore. Insomma, è tempo di risposte e certezze. Blocati da mesi, sempre a Teramo, i lavori di ripavimentazione del corso principale, quindi di Corso San Giorgio. I commercianti del centro si ritengono danneggiati da questo cantiere infinito e chiedono all'amministrazione di spiegare il perché di tale stallo nel completare un'opera pubblica. Vediamo. I lavori di rifacimento del Corso San Giorgio di Teramo sono partiti un anno fa. Nel presentare il cronoprogramma, l'amministrazione allora rassicurò la città che l'intervento si sarebbe svolto in tempi rapidissimi. Così non è stato. Furiosi i commercianti che da subito hanno lamentato una lentezza esasperante da parte della ditta appaltatrice e poi ci si sono messi ritrovamenti archeologici e la neve e, insomma, si passeggia ancora sul massetto i suoi tombini a vista e non si vede la fine. La neve non c'è più, eppure i lavori sul Corso non riprendono. Che succede? Succede che stiamo aspettando la perissia di variante da parte del direttore dei lavori. Non sempre la politica si può sostituire ad altri ruoli. Che cos'è questa variante, sessore? La variante è perché nel fare tutti i lavori che vedete, molti di questi lavori non erano previsti sul precedente, diciamo, progetto e quindi di conseguenza la ditta ha affrontato dei lavori diversi da quelli da progetto e quindi vanno valutati e pagati. È una questione a me di giorni perché sto sollecitando appunto tutta questa documentazione e la pretendo. E per il Corso Vecchio, per il Corso dei Michetti? Il Corso dei Michetti, se prima qui non diamo una risposta concreta di pavimentazione e quindi di fruibilità di questo corso, non parliamo di rompere altro se prima non sia giusto a questo. Ma perché non combattiamo un po' questa burocrazia? È una burocrazia che ci attanaglia, ma non terra, ma attanaglia al nostro Stato, al nostro sistema, che purtroppo è fatto di documenti su documenti e purtroppo sono indispensabili per poter mandare avanti un lavoro del genere. Molte volte un progetto si inizia e per finirlo passano troppi anni. Il progetto di ripavimentazione del Centro Storico di Teramo riguardava anche il Corso dei Michetti. Si riguardava perché, vista la difficoltà incontrata sul Corso San Giorgio a causa dei ritrovamenti archeologici, sarà molto improbabile intervenire nello stesso modo sul Corso Vecchio. I vigili del fuoco abruzzesi dell'Unione Sindacale di Base scendono in piazza il 18 febbraio a Teramo per lanciare il grido basta morire di disastri ambientali. Paolo Renzetti. È arrivato il momento di dire basta a quello che purtroppo vediamo ogni anno. Basta una luvione, una nevicata, anche il terremoto a mettere in ginocchio regioni intere, in particolare l'Abruzzo. Il nostro territorio oramai è in ginocchio, sia da un punto di vista sociale, ma soprattutto da un punto di vista infrastrutturale. Va rilanciato un piano di investimenti pubblici per mettere in sicurezza il territorio. Per cui Teramo sarà l'occasione per gridare forte, partendo dalla società civile, il bisogno di invertire la rotta. Non possiamo immaginare la crescita per questo Paese se non si parte dalla messa in sicurezza del territorio, ma soprattutto delle vite degli uomini e delle donne che questo territorio lo abitano. Un grido che arriva forte è soprattutto dai Vigili del Fuoco. Quegli angeli della speranza che dopo i primi attimi della strage di Rigopiano hanno salvato vite umane e purtroppo hanno dovuto, dopo tante ore di lavoro, anche estrarre corpi senza vita, ebbene quei Vigili del Fuoco sono i primi a dire che è arrivato il momento di invertire la rotta, che il corpo di Vigili del Fuoco non può essere un corpo di precari, non possono aspettare da anni il rinnovo del contratto nazionale, ma che su quel corpo che è il massimo dell'umanità che questo Paese può vantare, su quel corpo va ricostruito il nostro Paese. Non possiamo solo lavorare sull'emergenza, dobbiamo cominciare a prevenire, a lanciare un piano strutturale di risorse per il nostro territorio, un piano che non sia solo ed esclusivamente abruzzese o del centro Italia, ma che coinvolga tutta l'Italia. Il consigliere comunale di Forza Italia di Pescara ed ex assessore provinciale all'istruzione punta l'indice verso il presidente della provincia Antonio Di Marco accusandolo di immobilismo sul problema scuole. Ascoltiamo. Apriamo il giornale e leggiamo che il presidente della provincia di Teramo di Sabatino giustamente chiama a raccolta i 40 sindaci del suo territorio e minaccia marce su Roma per chiedere legittimamente una valanga di soldi proprio per le questioni idrogeologiche, per gli smottamenti, per le frane, per le scuole, per quello che stanno subendo i cittadini della provincia di Teramo. Noi qui assistiamo a un immobilismo totale, a un silenzio totale quando il presidente Di Marco oggi dovrebbe cogliere la palla al balzo. Proprio lui che è il presidente del Lupi Abruzzo, Unione Provincia Italiana Abruzzo, dovrebbe essere lui il portavoce di tutti i presidenti della regione Abruzzo proprio per i disagi che i cittadini hanno avuto e stanno avendo. Non possiamo dire poi dopo che non abbiamo i fondi per pulire le strade, non possiamo dire poi dopo che non abbiamo i fondi per mettere a posto una turbina da 20 mila euro, non possiamo dire poi dopo che non abbiamo i soldi per l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica oggi versa in uno stato di grande difficoltà, basta guardare quello che è accaduto a Villa Redice e Pagatti dove i ragazzi sono stati trasferiti presso il centro agroalimentare. Io credo che oggi ci serva veramente una carriola di fondi pubblici per poter anche fare tutte le verifiche sismiche del caso per i nostri edifici scolastici, per metterli in sicurezza, per dotare tutti gli edifici scolastici dei CP che sono i certificati di prevenzione incendi, cosa che invece oggi non sta accadendo. Allora se questo non è il momento propizio per battere i pugni sul tavolo ed eventualmente per riconsegnare una fascia azzurra a Roma, io mi chiedo quale altra occasione stiamo aspettando. Cambiamo argomento decisamente, la correlazione fra malattie da stress e cardiopatie. Convegno all'ospedale di Pescara per parlare di possibili rimedi. Vediamo. Si parla di stress e cardiopatie. Dottor Di Berardino c'è un collegamento abbastanza forte tra queste due problematiche. La risposta diciamo che è abbastanza semplice perché appartiene un po' alla tradizione popolare di attribuire al cuore una funzione molto legata alle emozioni, per cui lo stress agisce prevalentemente con reazioni emotive negative. Questo carico di emotività negativa incide sulla funzionalità del cuore e quindi può compromettere la funzionalità con le conseguenze che sappiamo. Noi più cerchiamo di controllare le emozioni evitandole e più ne siamo vittime. Io penso che la gente debba imparare a interagire in maniera consapevole con le emozioni e questo significa stare più aderente a se stessi, al sentire, più che a ragionare. C'è un eccesso di razionalità in questa società tecnologica e spesso dimentichiamo il rapporto intimo con noi stessi che è invece fondamentale per controllare le emozioni. Da un punto di vista sanitario e medico ci sono delle terapie, delle cure, delle medicine che possono far fronte a queste problematiche? Con questa sperimentazione vogliamo dimostrare che è possibile lavorare sulla prevenzione, quindi evitare più possibile la cronicità che spesso accompagna una terapia farmacologica che pur essendo importante però se accompagnata da un training in cui, come noi abbiamo fatto, aiutiamo le persone a stare meglio con se stesse attraverso la consapevolezza, questo può aiutare a ridurre gli effetti dello stress e quindi produrre un aiuto anche in più perché riduce l'utilizzo del farmaco. Entro la pagina sportiva Zenec Zeman sarà Zeman a sostituire Massimo Oddo sulla panchina del Pescara. Questo pomeriggio il Boemo ha assistito all'allenamento dei Biancazzurri al Poggio degli Olivi. Jacopo Forcella. L'era Zeman bis a Pescara è già realtà. Dopo la svolta in mattinata col tecnico Boemo che ha detto, anzi ridetto sì al Delfino, l'allenatore ha pranzato col presidente Daniele Sebastiani per definire gli ultimi dettagli e poi si è diretto col numero uno biancazzurro al Poggio degli Olivi, anche se per il momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni rimandando tutto alle prossime ore. Speriamo bene. Domani quando non riesco a fare interviste così. Se va tutto bene, domani, dopo l'allenamento parliamo, se no... Insomma, per l'ufficialità bisognerà ancora attendere ma è altrettanto evidente che la sua presenza al centro di allenamento insieme al suo vice Cangelosi lasciano supporre che si tratterà solamente di ratificare l'accordo con Scadenza giugno 2018. Dunque un anno e mezzo per terminare nel miglior modo possibile questa stagione e iniziare a programmare la prossima, quando sarà lo stesso Zeman a dettare le linee di mercato principali, magari valorizzando nel frattempo la cantera del Delfino, abbassando l'età media di una squadra che dopo la finestra di gennaio ha alzato il tasso d'esperienza. Domenica però potrebbe esserci Luciano Zauri sulla panchina nella gara interna contro il Genoa. Questo perché non ci sono i tempi tecnici per fare in modo che Zeman abbia piena consapevolezza della squadra a disposizione, meglio accomodarsi in tribuna e poi avere una settimana intera di lavoro con la Rosa. È evidente che il rapporto e il feeling tra il Boemo e la piazza adriatica non si è mai sopito da quella stagione indimenticabile nella quale il Pescara, partito in sordina, stupi tutti con un gioco spumeggiante e una promozione a suon di gol che fece gridare di nuovo ad uno Zemanlandi abiss. Con lui Verratti, Immobile e Insigni hanno avuto il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo profilo, ma ha valorizzato anche Capuano, Romagnoli, Balzano facendo riesplodere Marco Sanzovini prima dell'addio Amaro a fine stagione. La chiamata della Roma fu troppo allettante per il Boemo che in giallo-rosso però non ha trovato, la stessa fortuna ha avuto all'Adriatico, ma quel filo rosso non si è mai spezzato definitivamente, anche quando con un accordo praticamente blindato il Pescara gli voltò le spalle per proseguire con Massimo Oddo. E proprio al termine dell'avventura del campione del mondo sulla panchina riecco ancora Zeman, per un bis che i tifosi sognano già possa ripercorrere i fasti di quella stagione indimenticabile che riportò il Delfino nella massima serie. Se io non faccio interviste in mezzo alla strada, sono una sensazione. Ho visto giocare. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6, l'appuntamento con informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per la visione!